Sapevate che la capitale delle fiabe è Sant'Agata Feltria in provincia di Rimini? E Rocca Fregoso è la rocca che la fiaba ha come propria autentica residenza? Ah sì? Ma cos'ha al suo interno di così speciale la Rocca delle Fiabe? Un mondo meraviglioso che è dentro tutti noi, grandi e piccini. Le fiabe. www.roccadellefiabe.it